Salve a tutti, questo video nasce dalla proposta di molti di voi di intraprendere un percorso insieme che tratti appunto di scrittura e in particolare un modo di scrittura creativa. In verità mi avete chiesto delle vere e proprie lezioni video, però io ci tengo subito a precisare che non sono tanto presunzosa da dire che ho qualcosa da insegnarvi, quindi questo percorso che compieremo insieme ha lo scopo e nasce dall'idea di interscambiarci delle informazioni. A tal proposito ho fatto diverse ricerche su internet, perché diciamo che come probabilmente già saprete, non credo di dirvi nulla di nuovo, se andate nelle librerie trovate diversi manuali da consultare su questo particolare argomento, quindi su scrittura, scrittura creativa, come scrivere, le tecniche basilari da conoscere. Io ho notato che invece per quanto riguarda internet, e se in pratica volete il titolo di qualche manuale non c'è problema, io credo che andando a libreria qualsiasi commessa vi indicherà almeno un titolo, un manuale da acquistare, però io se volete conosco diverse, quindi nel prossimo video potrò anche informarvi sull'argomento, meglio dicendovi appunto qualche titolo. Stavo dicendo che comunque facendo delle ricerche su internet ho notato che la cosa è ben diversa, poiché di video del genere, cioè di percorsi intrapresi allo stesso modo come sto cercando di fare io, ce ne sono davvero pochissimi, se non quasi non ce ne sono in pratica, almeno non continui, quindi non ho riscontrato continuità, né tanto meno una concretezza tale da dire sì ok, questi sono dei video, un percorso simile al mio, no, mentre con piacere invece ho scoperto che ci sono, scoperto, già sapevo, però sono andata a interessarmi maggiormente, diciamo, e quindi ho visto con piacere che ci sono diversi siti che trattano l'argomento anche in modo approfondito e comunque concreto e sicuramente in maniera continua. Ebbene, cito qualcuno, perché comunque me li sono scritti, non me li potevo ricordare tutti, alcuni di questi ancora sinceramente li devo vedere, però li ho visti in maniera un po' alcuni superfasi, altri più approfondita. Comunque adesso ve li dico, poi non vi preoccupate se non capite bene l'indirizzo perché lo metto nel box di fianco, non mi ricordo se è stato qua o di qua, comunque nel box trovate gli indirizzi. Allora, abbiamo donaelibri.it, poi abbiamo gutenberg2000.org, consiglieditoriali.it, specchiomagico.net, pierluigiadami.it, poi comuniconline.it, poi mondodomani.org, poi ci sono due siti molto interessanti che ho consultato io stessa e mi sono davvero interessata a quello che ho trovato scritto, che sono animadicarta.blogspot.com e appunti di scrittura creativa.tumblr.com. Come finale di questo video voglio presentarmi, perché sicuramente molti di voi che passeranno da queste parti non sanno io chi sono, e vi dico, allora, io mi chiamo Sonia Sodano, ho scritto due libri, quindi nella mia vita faccio questo, scrivo, e niente, non voglio farmi pubblicità, perché questa cosa nasce assolutamente per, ve l'ho detto, per scambiarci queste informazioni. Poi se, insomma, volete conoscermi meglio, visitare il mio fan club, comunque dei siti che parlano di me, fatelo pure, io metterò gli indirizzi sempre di fianco, per darvi anche la possibilità di conoscere meglio chi vi sta parlando. Ok, io adesso chiudo qui la comunicazione, vi saluto e vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video dove appunto inizierà questo percorso insieme. Un bacio, ciao ciao!